Ragazzi bentornati qua nel nostro canale, io sono Riccardo, io sono Fabio e oggi siamo tornati qua su Buomani Qualunque per provare come abbiamo provesso perché siamo arrivati a 5 like, anzi tuttora siamo a 11 like, la fanta alla mela, eccola qua ragazzi, io non mi voglio, come dico sempre, dilungare troppo perché sennò il video diverebbe noioso e non vi piacerebbe, vi dico solamente che se arriviamo a 15 like, però so che ce la potete fare, proveremo qualcos'altro, come per esempio a noi era venuto in mente di provare un gusto sennò di oreo, vero? Sì, bene, già avevo parlato troppo quindi direi di andare ad aprirla e assaggiarla, ho preso la fanta ovviamente, ok un attimo possiamo mettere qua che dura e due bicchieri, ok adesso devo mettere la fanta nei bicchieri appunto e l'assaggeremo, intanto io adoro molto di mela verde, oddio, 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 sembra birra, oddio, 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 3 2 1 buono, frizzante ma buono, è molto frizzante ma buono, è molto frizzante ma buono, e c'è molto l'unico Mela però verde, secondo me questa qua la vedi pure per fare qualcosa, è un po' tropposa, però è zucco alla mela praticamente, è passato, poi non so perché c'è schifo vanta, potevano anche chiamarlo zucco alla mela casato, ok, ma ovviamente non lo potevano mettere così Bene, io non mi dilungo più perché tanto ormai abbiamo capito che questa parte è buona, no? Quindi tu che voto gli dai? Di gusto? Allora di gusto, un'ottima e mezza Di bellezza della lattina come sempre Di bellezza Estetica 9 9 Io gli do 9 sempre di estetica della lattina perché è molto bella dai Le bevande americane sono tutte belle esteticamente Di gusto gli do un 8 No, 9 perché l'ultima volta ho dato 7,5 a A quella l'ananas che sinceramente non era tutto sto granchino, ok? Non era buonissima quella l'ananas Diciamocelo però questa è molto buona Questa è molto buona Quindi io e Fabio vi diciamo che se questo video raggiunge i 15 like proveremo degli oreo strani E sempre americani Sempre americani, ovviamente E se arriviamo a 10 like proveremo altre due bevande americane Quindi 10 like bevande, 15 like oreo Non ci siete buoni Ok Detto questo Noi vi salutiamo E nulla Bella l'ananas Ciao